Oggi prepariamo un antipasto o un contorno sfiziosissimo con le zucchine. Facciamo gli schiedini. Per prepararli servono pochi ingredienti. Le zucchine, il pangrattato, un po' di formaggio grattugiato, va bene il parmigiano, il grano, il pecorino, poi sale, pepe, olio extravergine d'oliva e una spezia piacere. Io metto la paprika dolce. Tagliamo le zucchine a rondelle con la mandolina. Adesso preparo la panatura. Unisco il formaggio grattugiato al pangrattato, la paprika, un po' di pepe e sale. Adesso uniamo le zucchine, mescoliamo, condiamo con un filo d'olio e poi guardate. E adesso prepariamo gli schiedini. Ancora un filo d'olio e poi via in forno. Si possono cuocere in forno a 180 gradi statico per circa 20 minuti, oppure, per non accendere il forno quando fa caldo, in forno a microonde con la funzione crisp per 10 minuti. Guardate, non sono carini anche da servire come aperitivo tipo finger food?